Mettiamo una caccia, andiamo al cambio di campo, Gianpaolo volo, salto campagno dei 15, alza verso il muro, Vacchetto volo, è partito un missile amici! È partito un missile, è partito un missile da parte di Vacchetto, un intra di salto, niente da fare, 40 pari e siamo al terzo 40 pari dell'incontro.